Sono preoccupati i lavoratori del supermercato PAMMA a largo risorgimento a Viareggio perché non vedono investimenti da parte della proprietà e temono sempre più per il loro futuro. I sindacati della CGL affermano che attualmente da una quarantina i lavoratori sono diminuiti a 20 e non ci sono prospettive di nuove assunzioni. Inoltre sono 7 esuberi di cui 4 a breve cesseranno il lavoro. È stato trasferito poi anche il direttore a Grossete, il supermercato in attesa del sostituto. I sindacati si rivolgono anche al comune di Viareggio domandando con quali criteri è stata autorizzata l'apertura del nuovo supermercato Conad che ha contribuito sensibilmente ad un calo del lavoro. In pochi metri infatti fanno notare che ci sono tre supermercati troppi per una densità abitativa nella zona del Varignano. Inoltre un altro danno per la PAM, i sindacati sottolineano, è stata anche la presenza nel periodo di Natale e di Carnevale da parte del Luna Park. Anche in questo caso si rivolgono al comune soprattutto per evitare che una cosa simile avvenga per il futuro.